rovetta migranti al lavoro da questa mattina iniziato il progetto di volontariato per i richiedenti asilo ospiti alla struttura della conca verde l'overe didattica sempre più digitale all'ivampiana oltre alle lavagne interattive multimediali entra nelle classi anche il tablet una settimana di vacanza a sanremo e il premio per il concorso fotografico promosso dal gruppo facebook sedi albino se e l'associazione culturale lo scoiattolo buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 andiamo in apertura rovetta dove da questa mattina i migranti ospiti presso la struttura della conca verde sono al lavoro questa mattina i migranti ospiti presso la struttura della conca verde sono impegnati in questa attività di volontariato giusto sì abbiamo risposto positivamente all'invito della amministrazione comunale della protezione civile in questa giornata ecologica e ci sono otto ragazzi che diciamo hanno fatto i corsi per quanto riguarda il discorso della sicurezza e hanno aderito a questo progetto e adesso stiamo raccogliendo diciamo il più possibile quelle che sono le carte mozziconi o tutto quello che diciamo non è ecologico che sui nostri marciapiedi di questa zona di queste vie che ci hanno destinato della della zona di rovetta quindi un'attività tutto sommato semplice ma comunque impegnativa ma sicuramente è una cosa molto importante perché anche a livello proprio di impatto ambientale se uno guarda bene cosa c'è diciamo sui nostri marciapiedi si rende conto che ci sono un sacco di cose che non vanno dunque è una sicuramente lavoro semplice ma molto molto importante anche dal punto di vista del nostro turismo è proprio l'idea di avere una città pulita è l'idea fondamentale per riuscire ad avere più turisti nelle nostre zone siete attrezzate di tutto punto giubbino d'alta visibilità scarpe antinfortunistiche e guanti sicuramente bisogna ottemperare alle normative del decreto 81 che dà indicazione anche per i volontari di essere provvisti dei dei dpi che sono gli elementi di protezione individuale e hanno anche frequentato un corso di formazione nei giorni scorsi sì un rappresentante del dell'amministrazione ha fatto un corso che insegna la scuola edile ha fatto dei corsi ai ragazzi di come approcciarsi a all'utilizzo dei dpi e anche soprattutto al ai lavori ai lavori minimi di volontariato andiamo invece ora all'over didattica sempre più digitale all'Ivan Piana oltre alle lavagne interattive multimediali entra nelle classi anche il tablet al Piana ci sono sempre delle novità sì quest'anno parte la sperimentazione relativa alla didattica digitale infatti è una sperimentazione in cui il Piana sta investendo che consentirà agli studenti delle classi prime di utilizzare il tablet durante la lezione come un supporto all'apprendimento un aiuto all'apprendimento in più oltre alla LIM i nostri docenti stanno seguendo e seguiranno dunque il corso di tutto l'anno scolastico dei corsi di formazione relativi alla didattica digitale che naturalmente serviranno per supportarli nel creare delle lezioni in cui si utilizzano le nuove tecnologie per interagire con i ragazzi è un grosso investimento che la scuola sta facendo che hanno fatto le famiglie nell'acquisto dei tablet a prezzi agevolati e è una sperimentazione che durerà nei prossimi anni e porterà all'utilizzo di libri digitali in sostituzione di quelli cartacei quindi una cartella più leggera ma più capiente e meno costosa perché comunque il libro digitale è meno costoso specialmente abbiamo l'intenzione di realizzare dei libri digitali costruiti grazie al percorso fatto dai ragazzi con il supporto naturalmente degli insegnanti quindi diciamo questo è il futuro e poi c'è anche un'altra attività digitale diciamo che sta coinvolgendo i ragazzi che in sostanza è una nuova frontiera del giornalino scolastico sì, visto che nel rapporto di autovalutazione ci siamo prefissati l'obiettivo di valorizzare con diverse soluzioni le eccellenze dell'istituto quest'anno il nostro istituto per le eccellenze dà le loro diverse possibilità tra cui la realizzazione di un blog d'istituto che i ragazzi dovranno realizzare, curare e quindi ogni aspetto sarà seguito dai nostri studenti migliori ci sono già stati degli incontri formativi con i referenti d'istituto docenti interni del nostro istituto che hanno già competenze che hanno condiviso con gli allievi meritevoli inoltre, sempre per la valorizzazione delle eccellenze riparte quest'anno anche il peer tutoring anche in questo caso un esperto esterno il dottor Bodini Bruno avrà degli incontri formativi con i ragazzi tutor che sono comunque eccellenze che mettono a disposizione le ore pomeridiane gratuitamente per consentire ai ragazzi delle prime e delle seconde di beneficiare di lezioni, ripetizioni, sportelli gratuiti di aiuto andiamo invece ora a Clusone per mostrarvi in anteprima il pannello dell'agonia restaurato grazie a un progetto della consulta dei giovani oggi possiamo vedere dopo il restauro il pannello dell'agonia sì esatto, qui alle mie spalle troviamo il pannello dell'agonia restaurato dalla Valentina Bonzani è un'opera che è stata realizzata grazie al contributo di noi ragazzi della consulta dei giovani che attraverso gli eventi ma soprattutto l'evento Viviamo Clusone nel 2014 siamo riusciti a prendere tante offerte per poter restaurare quest'opera quindi noi della consulta dei giovani oltre che realizzare eventi durante l'anno siamo anche riusciti a contribuire al patrimonio culturale clusonese e questo ci rende molto orgogliosi altro da dire vorrei ricordarvi che sabato 21 novembre qui al Museo dalle Basilica alle ore 16 verrà appunto presentato l'opera insieme a Mino Scandella che vi spiegherà molto meglio di me quest'opera e colgo l'occasione di ringraziare la parrocchia di Clusone che ci ha reso disponibili in ogni parte di questo restauro e anche ai ragazzi della consulta dei giovani e soprattutto ringrazio tutte quelle persone che hanno creduto in noi che hanno creduto in questo progetto di restauro contribuendo con un'offerta Il piedibus, lo spazio compiti e il consiglio comunale dei ragazzi sono tra le principali attività del comune di Ponte Nossa rivolte ai più piccoli È ripartito nel mese di ottobre il piedibus grazie anche alla disponibilità dei volontari che hanno collaborato anche l'anno scorso siamo riusciti a far ripartire il piedibus il piedibus è attivo al martedì finirà alla fine del mese di novembre per poi riprendere in primavera presumibilmente tra il mese di aprile e il mese di maggio I motivi per cui ci hanno spinto a riproporre questo progetto sono diversi primo fra tutti è l'educazione alla salute l'educazione al movimento l'educazione quindi all'ecologia perché gli alunni vengono a scuola a piedi e non in auto come solitamente fanno almeno per un giorno alla settimana l'educazione alla sicurezza l'educazione stradale soprattutto per i più piccoli in quanto accompagnati da adulti imparano a rispettare i segnali stradali e a vivere le vie del paese il secondo progetto attivo nella scuola primaria di Ponte Nossa è lo spazio compiti già proposto l'anno scorso per le classi seconde e terze quest'anno è stato proposto per tutte le classi della scuola primaria quindi dalla prima alla quinta finanziato interamente dal comune e gestito dalla scuola dell'infanzia colgo l'occasione per ringraziare il presidente Luca Crotti che si è reso disponibile e sta tuttora collaborando per la migliore realizzazione di questo progetto coordinatrici e responsabili dello spazio compiti sono due insegnanti della scuola dell'infanzia che gestiscono Lorandi e Elena al mercoledì le prime e le seconde e Forlani e Silvia al mercoledì le terze, le quarte e le quinte sono coadiuvate da un gruppo di volontari da studentesse che sono già abituate a stare con i bambini in quanto hanno fatto le assistenti educatrici al CRE estivo lo spazio compiti offre anche il servizio mensa presso appunto la scuola dell'infanzia terminate le lezioni gli alunni si recano alla scuola materna dove consumano il pasto ritornano alla scuola primaria terminati i compiti vanno all'oratorio dove viene offerta loro la meretta il consiglio comunale dei ragazzi è stato eletto l'anno scolastico scorso e terminerà il suo mandato alla fine di questo anno scolastico gli obiettivi che ci siamo prefissi per eleggere il consiglio comunale dei ragazzi sono diversi uno fra tanti è quello di far conoscere maggiormente agli alunni il proprio paese di farli vivere un'esperienza educativa rendendoli partecipi alla vita democratica del proprio territorio e anche di fargli conoscere il funzionamento dell'istituzione del comune vorrei utilizzare gli ultimi secondi che mi rimangono per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato questi progetti per il piedibus tutti i volontari il gruppo dei carabinieri in congedo per lo spazio compiti il presidente come ho già detto prima il personale della mensa i volontari il dirigente dell'istituto comprensivo per quanto riguarda invece il consiglio comunale dei ragazzi il referente e l'insegnante che li segue durante le loro attività ora ci fermiamo per una breve interruzione tra poco torniamo in onda con il telegiornale di Antenna 2 in vacanza grazie a una fotografia è possibile grazie a un concorso promosso dal gruppo facebook 6 di Albino Se e dall'associazione culturale Lo Scoiattolo il gruppo facebook 6 di Albino Se insieme all'associazione Lo Scoiattolo ha lanciato un concorso fotografico dedicato proprio alla città di Albino spieghiamo questa iniziativa sì grazie intanto per averci incontrato questa iniziativa si intitola 6 di Albino se fai click quindi è uno stimolo che si vuole dare a tutti gli iscritti a questo gruppo ma a tutti sia albinesi che non albinesi ma che frequentano Albino di scoprire o riscoprire angoli noti e sconosciuti del paese e dalle frazioni invitandoli a partecipare a questo concorso facendo delle foto per entrare nel dettaglio ogni persona può iscrivere a questo concorso 5 fotografie queste fotografie si possono inviare a un form tramite un form che si raggiunge sul sito dell'associazione Lo Scoiattolo che è microfonoaperto.it da questo form si può rispondere a alcune piccole domande tipo il nome, il cognome, il titolo della foto e caricare le 5 immagini o una o cinque o due o tre come si vuole si ha tempo fino al 30 novembre di quest'anno quindi queste foto le foto che arriveranno verranno pubblicate sia sulla pagina facebook gruppo 6 di Albino 6 che su quella dell'associazione Lo Scoiattolo verranno pubblicate tutte le foto e i 2.700 iscritti al gruppo 6 di Albino 6 e quelli iscritti alla pagina dello Scoiattolo potranno votare e scegliere loro il vincitore del concorso quindi si fa tutto online? tutto online, sì il premio però non sarà online ma sarà reale la fotografia che prenderà più voti vincerà una vacanza per una settimana nel mese di giugno del prossimo anno a Sanremo in un resident con piscina quindi penso che sia un bel premio che possa invogliare anche a passare qualche tempo a fotografare o a ritrovare fotografie che non sono pubbliche che non sono state rese pubbliche oggi pomeriggio a Crusone è entrata nel vivo la festa dell'estate di San Martino allora la festa dell'estate di San Martino è iniziata e già nel pomeriggio sono passate tante persone sì, sì esatto fortunatamente la festa è iniziata bene è iniziata alla grande anche il tempo è dei migliori a parte questa nebbiolina che ci ha fatto un po' rabbrividire ma poi adesso si è aperta e c'è una serata fantastica come vedete dietro di me la festa è partita oggi, questo pomeriggio appunto e una delle caratteristiche principali sono i nostri mitici amici alpini che come vedete sono all'opera in una delle loro specialità ovvero le castagne è tutto il giorno che come vedete si sono messi in campo per prepararcele e devo dire che la richiesta è esagerata loro sono veramente una fabbrica senza fine e senza fine continuerò a ringraziarli perché davvero ci danno una mano esagerata ecco, quindi viva gli alpini viva i biduma, viva anche gli alpini non solo castagne, giusto? non solo castagne una delle nostre specialità è il mitico paesalam che viene cucinato e preparato con cura nel marchesato del paesalam ed eccolo qua il nostro mitico paesalam e poi non poteva mancare anche la musica che stiamo per sentire esatto, una novità di quest'anno come potete vedere è la Pegasus Brass Band che è un gruppo itinerante che sta facendo un concerto una street paré nelle vie del centro storico veramente uno spettacolo è un gruppo itinerante a Grazie a tutti. Poi per chi vuole uscire dall'euro voi avete già trovato la moneta alternativa. Esatto, sì. Un'altra caratteristica della nostra festa, della nostra banda, appunto come il nostro nome è la banda Bidu. Infatti i Bidu sono le nostre monete che magicamente in questa notte si tramuteranno in vino, taglieri, casoncelli. E adesso vi presento una delle nostre cassiere della banca Bidu. Sì, allora un po' di anni che ormai siamo le solite cassiere, stiamo lavorando per la banda Bidu. Il Bidu funziona, funziona in piazza e a quanto pare funziona anche oltre la piazza. Tanto è vero che alcuni bar accettano i Bidu. È capitato negli anni che fossero gli stessi baristi a ritornarci i Bidu che avevano accettato tranquillamente al bar. Per spenderli però non è che poi se li tenevano in tasca. Bidu di diversi tagli? Diversi tagli, abbiamo il mezzo Bidu, il Bidu, il 5 Bidu, poi c'è il Bidu è di due coni perché negli anni abbiamo dovuto aumentare anche la produzione perché a quanto pare piace molto il Bidu da un euro e non riusciamo più a ritrovarli, quindi non vengono più restituiti. E poi manca il 10 Bidu e c'è anche il 50 che però è stato venduto. Eventualmente nel dubbio potete usare quello da mille. Se qualcuno vuole usare potrebbe anche far questo. Noi lo accettiamo, è un assegno, non fa dispiacere anzi, vale per tutti. Continuiamo con le previsioni del tempo, cura del meteorologo Matteo Lacavalla. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Un anticiclone molto robusto sta interessando gran parte dell'Europa centro-occidentale. con la formazione di importanti nebbie su gran parte della Valle Padana e su gran parte anche del territorio orobico. Infatti questo anticiclone favorisce l'accumulo anche di non solo di umidità ma anche di inquinanti al suolo con un'atmosfera piuttosto irrespirabile su gran parte dei nostri centri urbani. Ma a proposito della nebbia, ringraziamo per le belle immagini riprese proprio oggi pomeriggio da San Lucio da parte del nostro professor Mario Brusasco che ci fa proprio vedere come questo strato di nebbia interessi gran parte anche della conca della Presolana con una quota massima intorno ai 700 metri di altitudine. Vedete questi prati proprio in prossimità della spessa che indicano questa nebbia quasi come un'atmosfera padana un evento particolarmente raro per la nostra zona orobica. Infatti queste nebbie proprio per questo robusto anticiclone si sono addensate pensate fino alla conca della Presolana ma non solo anche nella via Mala quindi nelle vie più profonde del Dezzo di Scalve e quindi sopra abbiamo invece cieli poco parzialmente nuvolosi con un cielo quindi gradualmente più sereno. Andiamo invece all'evoluzione del tempo per i prossimi giorni. L'immagine indica che dopo il 20 novembre ci sarà un cambio generale dello scenario meteorologico. Vedete proprio come in prossimità della terza decade di novembre arriverà dell'aria molto fredda di origine artica con associato un fronte freddo che andrà a scalfire se non proprio ad allontanare l'anticiclone sulle nostre regioni meridionali fin verso la Turchia e l'Egeo e quindi cambierà il tempo sul nostro territorio, ritornerà probabilmente il freddo, le precipitazioni non ne escludiamo dopo il 20 novembre anche delle spruzzate di neve fino a quote medio-basse. Quindi un cambio generale della circolazione atmosferica. Ma intanto come andrà il tempo per la giornata di domani? Saremo ancora in pieno dominio anticiclonico. Quindi cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per gran parte della giornata ma attenzione ai banchi di nebbia insidiosi specie in pianura padana nella medio-bassa valle seriana quindi anche nella città di Bergamo avremo ancora delle nebbie piuttosto persistenti così come nella zona del lago di Iseo intendo dire fra l'overe fino verso Sarnico. Probabilmente domani avremo gli ultimi deboli banchi di nebbia anche nella conca della Presolana ma dovrebbe via via migliorare il tempo e queste nebbie dissolversi nel corso della giornata grazie a una ventilazione più sostenuta dai quadranti settentrionali che spazzerà via questa coltre di nebbia proprio nella giornata di domani. Zero termico in abbassamento intorno ai 3000 metri di altitudine. Andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana in valle seriana. Ancora bel tempo anticiclone su gran parte del nostro territorio. Abbiamo detto che la svolta non avverrà prima del 20 novembre quindi saremo ancora in compagnia del bel tempo almeno nei primi giorni con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso nella giornata di lunedì con temperature minime indicato intorno ai 6 gradi quindi abbastanza fresche al primo mattino a Clusone massime intorno ai 16 gradi. Martedì, mercoledì cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Zero termico via via in abbassamento a 3200 metri nella giornata di martedì 3100 metri nella giornata di mercoledì vedete come le temperature tendenzialmente si riporteranno un pochino nei valori consoni alla media climatica del periodo compresi fra i 5 gradi di minima e i 15 gradi di massima. Cambia poco anche fra giovedì e venerdì vedete con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Zero termico che si posiziona intorno ai 3000 metri di altitudine. Venerdì ci sono qualche prima avvisaglia di un cambiamento del tempo nel corso del pomeriggio potrebbe arrivare qualche nuvola su gran parte del nostro territorio avvisaglia di quel cambio importante dell'atmosfera in prossimità del prossimo fine settimana quando potremmo essere raggiunti da aria artica su gran parte del nostro territorio orobico. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco. E torniamo in onda con il telegiornale di Antenna 2. Continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera alle 20.10 trasmetteremo a casa dello chef alle 20.30 il rotocalco, le 20.50 oltre confine trasmissione con Giacomo Ferrari che questa settimana si è occupato del museo dell'associazione Il Gigante di Luzzana. Alle 22.10 sempre sul canale 88 trasmetteremo Salus TV alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.20 in mano nobiscumi alla mezzanotte 30 la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antenna 2 verrà riproposto anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 sul quale alle 22.30 trasmetteremo la rubrica Pianeta Salute. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 una partita del campionato provinciale Boccette, Leon Bar 1, Bim Bon Bar mentre alle 23 una partita di volley maschile Nossese Remedello. Nel Manacco domani domenica 15 novembre il sole sorge alle 7.15 e tramonta alle 16.55 la durata del giorno è di 9 ore e 40 minuti la luna sorge alle 10.24 e tramonta alle 20.06 minuti la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 23%. E con questo è tutto noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti